Si torna ancora a sparare a Gioia del Colle, più in generale nel Baresa, a distanza di meno di tre giorni da un altro agguato. Ieri sera, attorno alle 20, arriva una nuova sparatoria, questa volta davanti ad un circolo ricreativo in via Ricciotto Canudo, vicino agli uffici della posta centrale. Due uomini di 40 e 46 anni sono stati feriti da colpi di pistola. Per entrambi è stato necessario il trasporto da parte di un'equipe sanitaria del 118 all'ospedale Miulli di Acquaviva, uno dei due più grave, stato sottoposto anche a un delicato intervento. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Gioia del Colle, che non soltanto stanno raccogliendo elementi per risalire i responsabili dell'episodio avvenuto ieri sera, chiarendone anche la dinamica, ma dovranno anche accertare eventuali correlazioni con la sparatoria sempre nel comune barese ma mercoledì scorso. In quel caso essere ferito un uomo di 49 anni, noto per piccoli precedenti, colpito per strada tra via Noce e via Semeria, a circa 500 metri dalla stessa via Canudo. Il 49enne si rifugiò in una farmacia per scampare i killer. Anche lui, non in pericolo di vita, era stato trasferito al Miulli per una ferita alla mandibola. Sul posto erano state ritrovate due pistole, due colpi, avevano infranto anche i vetri posteriori di un'Alfa Romeo parcheggiata. Sabato scorso invece a Valenzano, altri colpi di pistola, fortunatamente senza feriti, al termine di una rissa con il coinvolgimento di almeno quattro persone. Una rissa finita male è quella che ha portato anche all'omicidio di un 29enne a Capurso due sere fa, una recrudescenza criminale che potrebbe anche essere un sinonimo di un fermento criminale in provincia, anche se gli episodi sembrano diversi l'uno dall'altro, ma resta alta l'attenzione anche della DDA barese.